e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi faccio vedere qui i capolavori di Stanley Kubik film shining la cineteica repubblica l'espresso è uscito con la repubblica questo è il dvd shining il lato questo è il retro shining il primo film epico legge nero e horror qui c'è la trama qui stanno alcune immagini del film grande jack nicholson dvd do busy digital mi aiutato ai minori di 14 anni e ora andiamo a vedere come l'interno di questo dvd che c'è l'immagine jack nicholson qui come immagine diretta copertina è l'indice delle scene di tutti i capitoli e qui c'è il dischetto con jack nicholson quando spacca la porta molto carina e niente questo è il dvd di shining in questo video vi faccio un mentale iscrivetevi al canale e noi ci vediamo un prossimo video